La nostra associazione ha pensato di ampliare l'offerta culturale spaziando nell'ambito delle arti e la musica la consideriamo chiaramente un'arte, la musica è anche cultura e essendoci anche ampliati come organico e abbiamo acquisito dei soci che sono espertissimi di musica e sono anche esperienziati in altre esperienze con la musica ci è venuto in mente di fare questo festival e di dedicarlo appunto a tutte le band A chi è rivolto questo festival? È rivolto a tutti, all'Abruzzo ma anche fuori Abruzzo noi ci auguriamo che con l'andare del tempo Aki Live diventi un festival importante tant'è che la scelta anche della location è l'inizio per poi volendo occupare spazi veramente grandi come ad esempio quello dell'Arena della Civitella un giorno L'ingresso sarà gratuito o ci sarà un biglietto da acquistare? L'ingresso è gratuito, è fruibile da tutti coloro che verranno e anche l'iscrizione al festival da parte delle band è gratuita È sicuramente una bellissima rassegna la possibilità di far esibire delle band locali una Kermess secondo me dalla grande intuizione per quanto riguarda la musica leggera noi anche come amministrazione stiamo lavorando in tal senso per istituire un festival e lo presenteremo sicuramente questo inverno quindi più iniziative ci sono e più la città cresce sotto tanti punti di vista Paolo De Cesare sarà tra i concorrenti di questo festival? Paolo De Cesare è un appassionato di musica, soprattutto di musica leggera e quindi senz'altro sarà presente ad assistere a questa bellissima Kermess Grazie